E' state in crisi sull'Italia, dopo infatti il peggioramento di ferragosto una nuova perturbazione ci raggiungerà tra martedì e mercoledì. Questo impulso proverrà anch'esso dalla Francia e vedete primi temporali sono già attesi entro martedì sera soprattutto al nord ma occasionalmente anche sull'alta Toscana, mentre nella giornata di mercoledì il fronte si estenderà anche al resto del centro e del nord est portando piogge temporali localmente anche di forte intensità accompagnati vedete da un calo termico per l'ingresso di aria più fresca nord atlantica, più ai margini sud che comunque sperimenterà qualche temporale soprattutto tra Sicilia, Campania, Medio Alta Puglia e Molise. Quindi per tutti gli aggiornamenti vi ricordo che potete scaricare anche l'app gratuita di Trebimeteo per tablet e smartphone oppure visitare il nostro sito trebimeteo.com